Ciao, sono Luca Serfilippi. Alle elezioni regionali hai la possibilità di dare spazio e fiducia a un giovane preparato. Cambiare richiede coraggio. Vota Lega e scrivi Serfilippi. Quello che a fine luglio era stato comunicato alle famiglie in via previsionale inizia oggi ad avere le sembianze di certezza e a due settimane dall'inizio della scuola ecco la situazione per gli studenti del Nolfi. Disporremo gli studenti dell'indirizzo artistico nel plesso di San Lazzaro dell'Apolloni. Gli studenti di tutti i bienni dell'indirizzo quindi classico, linguistico e scienze umane al Nolfi di via Tommassoni. Lì anche il triennio del classico, mentre il triennio del linguistico nella nuova sede del Battisti e il triennio di scienze umane LES nella sede dell'Olivetti. Abbiamo organizzato la possibilità di una presenza fissa, stabile sempre per gli studenti del liceo artistico che hanno i loro laboratori che non possono essere svolti a distanza. Per tutte le prime di tutti gli indirizzi, puntiamo anche a tutte le quinte di tutti gli indirizzi. Per le altre classi stiamo organizzando una didattica mista integrata fra presenza in classe e momenti a distanza con il computer. Al Nolfi abbiamo chiesto alcuni lavori che sono in corso di svolgimento, al Battisti ci sono altri lavori che la provincia ha già ultimato, definitivamente. L'Olivetti si stanno svolgendo, ho buona fiducia che possono essere conclusi per i 14. Ciao, sono Lucas e Filippi. Alle elezioni regionali hai la possibilità di dare spazio e fiducia a un giovane preparato. Cambiare richiede coraggio. Vota Lega e scrivi Sir Filippi.